Anus, mi scrive Franca e mi chiede, maestro, nella sua autobiografia scrive che sua madre da piccolo aveva il potere di controllare la sua mente e riusciva a farsi obbedire in ogni cosa solamente con l'imposizione delle mani, ma per caso usava anche lei i poteri psicomedianici? No, è che mi tirava certe sciaffate nel viso e mi sbriciolava. Grazie